Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Edizione che apriamo sul grave fatto di cronaca che sta facendo discutere, ha sconcertato l'intera città di Udine, ovvero la denuncia per due violenze sessuali subite da una ragazzina friulana di 15 anni da parte di due richiedenti asilo pakistani. L'inchiesta è stata aperta dalla procura di Udine a seguito delle indagini portate avanti dalla squadra mobile della Questura dopo le denunce dei due episodi avvenuti a luglio ed agosto scorso, indagini che vanno avanti, stanno venendo ascoltati diversi altri testimoni, due persone sono già state fermate, si cerca la terza che avrebbe fatto da palo durante queste violenze consumate, si parla della zona di via Butri in un edificio abbandonato. Dicevamo un fatto che sta creando molto scalpore, sdegno da parte dei cittadini e delle istituzioni con in testa il sindaco Fontanini che ha tuonato sul fatto e ha chiesto che per esempio proprio sul fronte richiedenti asilo, nello specifico dell'ex caserma Cavarzerani, da dove sarebbero provenuti proprio i due sospettati, ha richiesto il sindaco di limitare gli orari di uscita e ingresso da parte degli stessi richiedenti asilo. Siamo lì proprio davanti alla caserma Cavarzerani con la nostra Francesca Santoro assieme al presidente del comitato di quartiere di Udine Est, Stefano Salmè. Andiamo proprio da loro per sentire cosa chiede la gente di Udine Est, di Via Riccardo, ma non solo di Laipacco e San Gottardo. Bentrovata Francesca. Sì, buongiorno Davide, esattamente come lo dicevo. Ancora a qualche istante stiamo perfezionando l'audio del collegamento, dicevamo appunto di una situazione che ha creato enorme sconcerto, il sindaco Fontanini è intervenuto stamattina su Facebook chiedendo che vengano definite delle regole che tutelino i cittadini, in particolare durante i periodi di verifica per il riconoscimento dello status di profugo. Ad esempio, ha detto il sindaco, dovrebbero rimanere più a lungo all'interno delle strutture di accoglienza. Una richiesta che si leva proprio anche dagli stessi aderenti ai comitati di quartiere, al consiglio di quartiere, in particolare ai presidenti Salmè, che andremo a sentire tra poco, e Chiarandini per Laipacco e San Gottardo, nella loro richiesta in particolare c'è quella di ridurre l'orario di rientro alle ore 17 degli ospiti dell'ex caserma Cavarzerani. Tra poco torneremo proprio ad approfondire questo tema, in attesa di ricollegarci con la nostra Francesca Santoro, rimanendo sempre in argomento, passiamo a Trieste, dove a seguito di una lite sorta proprio all'interno di una struttura di accoglienza di Fernetti, la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali due cittadini stranieri, un iemenita classe 1993 e un siriano classe 1989, sul posto una volante del commissariato della Polizia di Stato di Duino Aurisina. Una lite dunque all'interno di questa struttura per richiedenti asilo sanata dall'intervento delle forze dell'ordine. Sempre a Trieste, la scorsa notte, i gnoti hanno danneggiato sei autovetture parcheggiate nello spazio coperto di via Pastor. In mattinata sono giunte varie segnalazioni alla sala operativa della Questura e sul posto si è recata anche una volante. I mezzi presentavano uno o più finestrini in frantumi. Sempre in via Pastor, la scorsa notte i gnoti hanno manomesso il distributore automatico di tabacchi posto all'esterno di un bar. E a Trieste, da Trieste, arrivano in particolare aggiornamenti anche sull'altro grave fatto di cronaca di sabato notte, l'accoltellamento di un ragazzo di 17 anni di Cervignano. È stato fermato perché è ritenuto responsabile di questo episodio un diciottenne kosovaro pregiudicato già coinvolto nella vicenda. Inizialmente si era preso la colpa un quindicenne nordafricano. Dopo l'accoltellamento i due si sono repentinamente allontanati da quei luoghi e mentre il nordafricano ha fatto perdere le sue tracce, il kosovaro si è cambiato di abito, imbrattato di sangue, per poi far ritorno presso la vicina piazza Goldoni dove era stato fermato e identificato. È da ritenersi che il diciottenne abbia indotto quindi l'amico minorenne ad addossarsi la responsabilità dell'accoltellamento in ragione dei vantaggi giudiziari di cui quest'ultimo avrebbe potuto godere. Tuttavia le dichiarazioni contrastanti rese sia dal minore che dello stesso kosovaro, la visione delle telecamere della zona. Le testimonianze raccolte e gli esiti delle ulteriori indagini hanno consentito di accertare sia il patto stretto tra i due sia la materiale responsabilità del diciottenne nell'accoltellamento. È inoltre emerso come la settimana precedente e si sia verificato un episodio analogo. Due giovani transitando lungo la scala dei giganti si sono visti all'improvviso piombare addosso il minore nordafricano unitamente ad un altro giovane straniero il quale sotto la minaccia di un coltello gli ha intimato di non passare più per quei luoghi. Il fatto non era stato denunciato per timore di eventuali ritorsioni. È emerso inoltre come i due indagati facciano parte di un gruppo più ampio di giovani kosovari nordafricani soliti frequentare quei luoghi. Alcuni di essi tra l'altro sono riconoscibili da un tatuaggio sul collo raffigurante un kalashnikov è il numero 507 ovvero la data del giorno in cui la Repubblica del Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia. I componenti del gruppo avrebbero individuato nella scala dei giganti il loro territorio sul quale esigere il riconoscimento delle loro prerogative da parte di quanti transitano con intimidazioni e minacce. Abbiamo ripristinato il collegamento con la nostra Francesca Santoro allora torniamo all'esterno della caserma a Cavarzerani proprio per fare il punto della situazione sulle richieste del quartiere dopo il fatto di violenza che ha interessato la città. Sì esatto David buongiorno con me Stefano Salmè presidente del consiglio di quartiere Udine Est di Giusto. Avete fatto una nota congiunta insieme ad altri rappresentanti dei cittadini per chiedere tolleranza zero. Insieme a Lana Chiarandini che è presidente del quartiere San Gottardo e l'Aipaco abbiamo chiesto tolleranza zero. Cosa significa? Che il limite è stato ampiamente superato e che quindi bisogna adottare dei provvedimenti di emergenza che diano serenità e garanzie ai cittadini che diciamocelo chiaramente si sono rotti le balle. Che genere di provvedimenti? Intanto riteniamo che adesso con il calare della sera viene presto il coprifuoco vada portato alle ore 17 e questa è una cosa essenziale. Poi c'è il problema degli scavalcamenti e a quel punto noi riteniamo che la presenza dell'esercito e che a sorvegliare appunto il perimetro della caserma sia indispensabile. Poi una serie di altre iniziative. Noi pensiamo ad una app che possa mettere in rete tutti i cittadini dei nostri quartieri che possano inviare delle note in foto che possano fare delle segnalazioni per garantire tutti quanti insieme la sicurezza, una sicurezza garantita dal vicinato. I cittadini che vivono intorno alla Cavarzerania hanno manifestato a voi il loro disagio? Soltanto ieri sera sia io che la Presidente Chiarandini abbiamo ricevuto decine di telefonate che esprimevano non soltanto la loro indignazione per quello che è accaduto ma anche la loro rabbia e preoccupazione. Bisogna dare una risposta, le autorità competenti dovranno dare una risposta. Noi riteniamo che il Sindaco abbia fatto bene a chiedere che finisca l'esperienza dell'accoglienza diffusa. I richiedenti asilo vanno concentrati nelle caserme, le caserme vanno controllate dall'esercito e il coprifuoco deve essere portato alle ore 17. Cosa intendete fare per far sentire la vostra voce? Noi vogliamo chiamare la cittadinanza raccolta in una grande manifestazione che noi vorremmo fare qua davanti alla caserma Cavarzerani. I cittadini devono accorrere in massa perché è ora di rispondere con i fatti e manifestare la loro rabbia e la loro determinazione. Se questo non sarà possibile perché le forze dell'ordine ci diranno che ci sono problemi per la garanzia della sicurezza della manifestazione allora vedremo quale sarà l'alternativa. Noi rispettiamo molto le forze dell'ordine, non dimentichiamo i fatti di Trieste dove due servitori dello Stato sono morti, uccisi proprio da un immigrato. Grazie Stefano Salmè, a te David. Grazie alla nostra Francesca Santoro per questo contributo e dunque forte la rabbia dei cittadini della zona, la richiesta di portare l'esercito proprio a presidiare il centro che ospita i richiedenti asilo ma anche la volontà di manifestare dopo il fatto accaduto di cui vi abbiamo raccontato poco fa. Continuiamo con la cronaca, con un allarmante episodio accaduto alla Tisana, una bimba delle scuole elementari che è stata portata in pronto soccorso dopo che un compagno di scuola ha spruzzato sullo scuolabus spray al peperoncino. È accaduto nella mattinata di ieri nella corsa del servizio che da sabbio nera porta a Gorgo. L'accompagnatrice che si trovava sul mezzo si è accorta, ha avvisato l'autista che si è fermato, sul posto è arrivata un'ambulanza che ha portato per accertamenti la bimba in ospedale. Ha trascorso alcune ore con i successivi accertamenti dei sanitari poi è stata dimessa nel pomeriggio e dell'episodio si sta occupando la polizia locale. I carabinieri invece si stanno concentrando su alcuni furti avvenuti nella notte all'alba di oggi tra Tavagnacco e Feletto. Attorno alle 5.30 ha presa di mira l'area del distributore di carburante lungo la tangenziale Ovest dove i gnoti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'ufficio a rubare il fondo cassa e provocando diversi danni soprattutto alla colonina del self service a lanciare la richiesta di intervento un'automobilista che si trovava nella zona in sosta a riposare sul posto i carabinieri del norma che poi sono intervenuti anche a Feletto dove i ladri hanno preso di mira la piscina comunale, hanno sfondato con una mazza la vetrata posteriore dell'impianto sportivo e hanno rubato un diverso materiale in corso di quantificazione. Una donna di 56 anni invece ha presentato denunce e ha richiesto l'intervento dei militari dopo essere stata scippata nella tarda serata di ieri in via Tricesimo. La 56enne stava camminando lungo il marciapiede quando è stata avvicinata da un ragazzo straniero che è riuscito a rubarle il portafoglio all'interno del quale la donna aveva i documenti e 25 euro in contanti. I militari stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per riuscire a ricostruire la vicenda. Ancora cronaca con un incidente stradale che è avvenuto a Tarcento, un pedone è stato investito nella serata di ieri attorno alle 20.45 in via Udine all'altezza dell'incrocio per Segnacco. Si tratta di un 68enne residente in zona, sul posto è intervenuto il 118, l'uomo presenta traumi multipli ed è stato portato in ospedale a Udine. La sua prognosi è riservata mentre la procura ha risposto il sequestro del mezzo. Ancora con la cronaca, con un episodio che ha visto invece protagoniste le guardie zoofile con un intervento per un allevamento abusivo, diversi animali rinchiusi in gabbia tra gli escrementi. È scattato il sequestro da parte delle guardie zoofile dell'OIPA, i furetti che erano contenuti all'interno di queste gabbie sono stati trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatici. Lasciamo la cronaca e veniamo all'attualità con i dati relativi alla stagione turistica estiva che sono stati resi noti stamattina in Regione. La nostra Francesca Santoro ha fatto il punto con l'assessore competente Sergio Emiliobini. Come è andata l'estate per il turismo della nostra Regione? Siete soddisfatti? Noi siamo soddisfatti. Guardi, Paese Italia, numeri in contrazione, Friuli, Venezia e Giulia, numeri che tengono, addirittura in talunni casi crescono. Quindi i numeri ci soddisfano. Stiamo lavorando per potenziare ancora di più. Ah, una cosa va detta. Ricordatevi che già da un triennio i numeri stanno crescendo sia per quanto riguarda le presenze sia per quanto riguarda i visitatori in maniera importante in Friuli, Venezia e Giulia. Quindi crescite ulteriori vanno apprezzate ancora di più. Non dimentichiamoci però che siamo, almeno parlo della Giunta Fedriga, appena all'inizio, abbiamo appena iniziato, ma con un obiettivo molto chiaro, quello di rendere sempre più appetibili e sempre più fruibili le zone, sia la montagna, ma il mare, città, insomma l'offerta turistica a tutto tondo che la nostra Regione è in grado di presentare. Nel prossimo DDL, sviluppo e impresa, una parte rilevante ce l'avrà anche il turismo. Ci saranno delle novità sostanziali, importanti, sia per quanto riguarda le strutture ricettive, sia per quanto riguarda gli appartamenti uso-vacanza. Insomma, soddisfazione. Particolarmente positivo il dato delle città d'arte Trieste e Udine. Beh, Trieste si sta dimostrando un driver importantissimo per la nostra Regione, con dei numeri che vanno al ben al di là di quelle che erano le nostre aspettative. Udine sta tenendo, quindi cosa volete che vi dica? Insomma, la soddisfazione c'è, dobbiamo però lavorare, dimenticarci di quello che c'è già stato, ma incominciare a creare i palinsesti di intrattenimento, non solo con eventi, ma anche con strutture e infrastrutture, in grado di attrarre nuovi turisti in Friuli, Venezia e Giulia. Sempre in Regione stamattina si è riunito il Consiglio delle Autonomie Locali tra i provvedimenti all'ordine del giorno, la nuova legge che porterà la riforma dei comuni, ma non solo, e poi per quanto riguarda anche i provvedimenti della Giunta, i fondi destinati alle videocamere di sorveglianza nei luoghi sensibili della Regione. Allora andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore Roberti, l'assessore alle autonomie locali che rappresenta la riunione, ha fatto il punto della situazione. Entro la fine dell'anno noi vogliamo concludere l'iter, abbiamo cercato di accelerare quanto prima una misura che era stata inserita nella legge di assestamento, quindi nello scorso luglio, oggi siamo andati ad approvare, quindi con un voto unanime da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri di ripartizione delle risorse. 3 milioni sul territorio, 3 milioni in telecamere che andranno nelle strutture sensibili, perché frequentate da fasce della popolazione che meritano particolare tutela, quindi quelle fasce deboli, pensiamo ai bambini, pensiamo ai disabili, ai nostri anziani, per poter garantire la loro sicurezza e anche una tutela per i lavoratori che magari davanti a un falso allarme potranno essere maggiormente tutelati. Mi pare che sia andata molto bene questa discussione, la volta scorsa avevamo fatto una preillustrazione perché non c'era ancora un testo da poter mostrare, oggi abbiamo esaminato l'articolato, ci sono state tante domande da parte dei sindaci, tanti chiarimenti, da parte dell'amministrazione regionale, da parte mia c'è la massima volontà di poter recepire tutte quelle che possono essere le indicazioni da parte dei sindaci, perché questa era la volontà fin dal principio, direi però che di accorgimenti non ce ne saranno tantissimi, perché almeno il senso, il significato e i principi della norma pare di capire che siano ampiamente condivisi dal Consiglio delle Autonomie Locali. Dopodiché adesso parte una discussione, anche perché oggi appunto eravamo nella commissione del Consiglio delle Autonomie Locali, ci sarà ancora una seduta di Consiglio delle Autonomie Locali e poi l'iter fino all'approdo finale in Consiglio regionale previsto per il 13 e 14 novembre. Andiamo a Pordenone dove si è aperta SICAM la fiera dedicata all'industria del mobile, Daniele Boltin ci racconta le novità di quest'anno. Si è alzato il sipario sull'undicesima edizione di SICAM. La fiera, manifestazione di riferimento per la filiera del legno arredo, è diventato un appuntamento internazionale in cui uomini e donne d'affari provenienti da tutto il mondo arrivano a Pordenone per fare business e attivare relazioni coinvolgendo tutte le realtà appartenenti al settore. L'undicesima edizione è partita con numeri da record. Sono oltre 600 gli espositori che occupano i 10 padiglioni del quartiere fioristico pordenonese. Le stime indicano un numero di aziende attese in visita superiore alle 8.000, molte le realtà italiane, ma sempre di più quelle estere, provenienti da un centinaio di paesi. Moltissime le presenze dall'estremo oriente e dai paesi arabi, a conferma dell'interesse mondiale per la qualità del mobile italiano, che vede uno dei poli più importanti tra Pasiano, Prata di Pordenone e Brugnera. Un grandissimo successo di questa undicesima edizione dopo la decima dello scorso anno, il decennale importante, anche quest'anno è in crescita, una manifestazione di assoluto livello, circa 600 le aziende che spongono e circa 8.000 le aziende che attendiamo nei padiglioni di Pordenone Fiere per visitare questa che è un'eccellenza del territorio, un'eccellenza per la fiera di Pordenone, ma è un'eccellenza anche per l'indotto che crea. Occupa gli alberghi da Treviso fino a Udine, fino al mare e i ristoranti ogni sera ospitano questi nostri visitatori che vengono qui per vedere il meglio della produzione delle nostre aziende. Dopo anni di crisi dove le aziende più deboli purtroppo sono state chiuse, quelle che sono rimaste si sono rafforzate, hanno quote di mercato maggiori e dai numeri che vediamo e dai visitatori che sono presenti vediamo un mercato in grande fermento, una scelta eccellente, quella di proseguire in questa che è la fiera del mobile, la fiera degli accessori per il mobile e in questo noi supportiamo tutto il mercato di questo settore per l'eccellenza del territorio. Apriamo la pagina dedicata ai fatti accaduti in Italia e nel mondo a partire dall'ultima ora che arriva dal Regno Unito, ovvero l'accordo sulla Brexit che è stato raggiunto a Bruxelles con il Premier Johnson e Juncker, dopo una notte di trattative ci sarebbe l'intesa sulle modalità di uscita dei britannici dall'Unione Europea, il Premier Conservatore conferma via tweet l'annuncio del Presidente della Commissione Europea Juncker sul raggiungimento dell'intesa. Abbiamo un grande nuovo accordo, ha detto Johnson, che ci restituirà il controllo del nostro Paese, ora il Parlamento deve lasciare la Brexit che la Brexit sia fatta, confermando poi il voto di Westminster sabato durante una seduta straordinaria. Get Brexit done, conclude il primo ministro con il suo slogan, con l'hashtag poche ore prima la cancelliera Merkel aveva fatto sapere che ultimi tempi c'era stato un chiaro movimento in avanti e che si era raggiunto una via migliore. In mattinata la leader unionista dei democratici della Nord Irlanda, Harlan Foster e il suo vice Dodds avevano reso noto di non poter dare loro sostegno all'ipotesi di accordo sulla Brexit a cui stava lavorando il governo di Johnson e la Commissione. Senza il sostegno del DUP difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Foster e Dodd hanno detto in un tweet che continueranno a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo ragionevole. Ora invece dall'Italia facciamo il punto con la nuova manovra sul fronte finanziario. Più fondi per la sanità e anche per rinnovare l'edilizia di ospedali e strutture e stop al super ticket per garantire a tutti i cittadini un più facile accesso al servizio sanitario nazionale. Con la manovra di bilancio appena approvata dal Consiglio dei Ministri il ministro della salute Roberto Speranza realizza due obiettivi definiti prioritari per il suo di Castero a partire proprio dalla eliminazione dell'odioso balzello che i cittadini devono pagare per le prestazioni specialistiche e per quelle ambulatoriali ovvero su visite ed esami. A fronte di una popolazione che continua ad invecchiare e registra un aumento delle patologie croniche con una crescente domanda di assistenza sanitaria e territoriale il primo risultato portato a casa è innanzitutto l'aumento delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale. Si tratta secondo il Vice Ministro all'Economia Antonio Misiani del maggior incremento per la sanità dal 2010. Ma il cavallo di battaglia per il ministro Speranza è stato l'eliminazione del super ticket e la tassa di 10 euro che i cittadini pagano per visite specialistiche ed esami. Rappresenta un'entrata per le casse statali pari a circa 414 milioni di euro nel 2016 secondo gli ultimi dati della Corte dei Conti ma la situazione è estremamente eterogenea e varia da regione a regione. In ora ritorniamo alla Dacia Arena con il nostro Jacopo Romeo. Riappriamo la pagina sportiva per fare il punto della situazione in vista del ritorno in campionato dei bianconeri di Tudor contro il Torino. Ben ritrovato Jacopo. Ciao, ciao, buongiorno Davide. Ben trovato anche a te e tutti i nostri spettatori qui dalla sala stampa della Dacia Arena. Preparazione alla sfida contro il Torino che è entrata di fatti nel vivo. Sono anche rientrati tutti i nazionali. L'ultimo si è ralta nella tarda serata di ieri. Dunque Tudor oggi avrà la pattuglia al gran completo. Vedremo anche se si riaggregherà al gruppo Rodrigo Becao che è comunque sulla via del recupero e riguardo il suo impiego. Comunque la sua convocazione per la sfida contro il Torino c'è crescente fiducia. Mentre non dovrebbe riavere in gruppo neanche oggi Jens Struger-Larsen che è alle prese con questo risentimento muscolare che lo sta un po' frenando da quando è rientrato dagli impegni con la Nazione Danese. Vediamo, viene valutato comunque giorno dopo giorno in vista del match di domenica. allenamento che è fissato questo pomeriggio per le ore 15 e magari essendo anche il primo con il gruppo allargato a disposizione potrebbe essere anche allenamento che inizia a essere indicativo dal punto di vista delle scelte tecnico-tattiche in vista della sfida della da Serena di domenica alle ore 15 contro i Granata. Vedremo innanzitutto se sarà porta aperta o porta chiuse perché tutta la settimana Tudor sin dal lunedì si è giustamente voluto cautelare visto che Mazzarri in passato ha sempre mandato qualche sua sentinella per cercare di carpire indicazioni tecnico-tattiche. La sfida, tra l'altro, David, sarà diretta dal signor Abisso di Palermo. Sono arrivate le designazioni, al VAR ci sarà Doveri della sezione di Roma 2. Questo dunque un po' per quanto riguarda anche la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica. Dico anche che oggi alle 19.19-19.30 alcuni giocatori, 5 per la precisione, saranno al Macro Store per l'aperitivo con i tifosi dell'Udinese Club, del club di Rovere di Impiano, che hanno vinto il contest dell'Aucidei passato. Ogni anno c'è il premio che ci sarà poi anche per l'Aucidei domenica, che è il club che aderisce in maniera più massiccia questa iniziativa, vince poi un walkabout alla Dacia Arena e un aperitivo con alcuni giocatori che appunto sarà incassato il premio del precedente Aucidei dai tifosi di Rovere di proprio questa sera dalle 19.30. A te. Grazie, grazie al nostro Jacopo Romeo. Torneremo a parlare di Udinese seguendo anche l'allenamento pomeriggiano. Naturalmente a pomeriggio calcio dalle 15. L'informazione invece tornerà alle ore 16. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.